Carissimi, come forse sapete, il conto alla rovescia del nuovo tempo è iniziato proprio ora, quando la Terra ha iniziato a prepararsi per il salto energetico finale nella quinta dimensione, dove già esiste nelle sue forme sottili. È arrivato il momento, Gaia, il momento della transizione. Da un lato, ci stiamo preparando a una nuova era della nostra evoluzione, dall'altro, stiamo assistendo a un enorme sforzo di trasformazione collettiva globale. Come sapete, questa preparazione al cambiamento è in corso da molti decenni, durante i quali si sono verificati una serie di incidenti cosmici, che hanno innescato cambiamenti energetici a diversi livelli. È giunto il momento di svegliarsi, e questa volta non perdiamo nessuna occasione per imparare, crescere e progredire nella vostra evoluzione. Notiamo che tutti voi percepite cambiamenti imminenti come se fossero sospesi nell'aria, e che fenomeni naturali insoliti, che si verificano con maggiore frequenza, sono il precursore di tali cambiamenti. Da un punto di vista umano, ciò che state vivendo in questo momento può sembrare terrificante, pericoloso e persino tragico, perché tutte le fondamenta della vostra società hanno iniziato a sgretolarsi, causando il cambiamento del vostro normale stile di vita. La nuova realtà arriverà così rapidamente, che non tutti saranno in grado di superare la barriera psicologica che separa il vecchio dal nuovo. State entrando in un periodo di trasformazione. Il vecchio modo di pensare è obsoleto, e al suo posto costruiremo una società migliore e più efficiente. Siamo nel bel mezzo di un cambiamento energetico collettivo, che avrà molti impatti sui vostri corpi fisici e sul mondo tridimensionale che vi circonda. Questi impatti saranno percepiti immediatamente, e dovreste essere preparati agli eventi che porteranno molte persone a fuggire dal piano terrestre, spinte dalla paura di questi cambiamenti. Tuttavia, le anime di luce che sono state informate di ciò che sta accadendo ora sulla Terra, e che si sono preparate per il passaggio con grande impegno e per lungo tempo, accoglieranno questi cambiamenti in silenzio, perché capiscono che senza di essi sarà impossibile attraversare il tanto atteso confine tra il mondo tridimensionale, e quello di quinta dimensione. Quali effetti avranno questi sviluppi sulla Terra? A causa dello spostamento dei continenti, i confini dei paesi saranno distrutti, con conseguente disordine e scompiglio per un certo periodo di tempo, a causa del terrore e del panico delle persone che abbandoneranno le loro case, e i loro modi di vita familiari. Continuerà fino a quando le organizzazioni internazionali competenti non prenderanno il controllo della situazione, e non inizieranno un'azione sistematica per trasferire le persone dalle aree colpite da disastri naturali, ai paesi disposti ad accoglierle e reinsediarle. Un sistema finanziario in frantumi sarà sostituito da un nuovo ordine mondiale basato su un'equa distribuzione finanziaria, piuttosto che sull'avida appropriazione delle ricchezze mondiali da parte di un piccolo gruppo di banchieri, che oggi controllano tutti gli asset bancari del mondo. Questo nuovo sistema finanziario, porterà prosperità e fascino a coloro che lo cercano, distruggendo le allettanti promesse del vecchio sistema corrotto. Il potere politico in molti paesi del mondo cambierà radicalmente, e i nuovi capi di Stato saranno persone con una nuova mentalità, che vedono che la Terra ha raggiunto un nuovo stadio di evoluzione. Potete considerarli come un alto consiglio di anziani spiritualmente avanzati, che saranno venerati per la loro saggezza, compassione e capacità di assicurare libertà e pace a tutte le creature viventi sulla Terra di 5D. Il controllo autoritario, le restrizioni e gli abusi, saranno un ricordo del passato. Poiché siete tutti cittadini del vostro pianeta con uguali diritti, inizierà una nuova vasta ridistribuzione delle risorse naturali, basata sui bisogni delle persone, ponendo così fine alla fame e alla povertà. Tutto questo sarà possibile perché le vibrazioni delle persone cresceranno rapidamente, altrimenti, non sarebbero in grado di sopravvivere su una Terra di quinta dimensione. Ecco perché è così importante, che sappiate e accettiate il fatto che la vostra realtà, e quella che vivrete nei prossimi mesi, sarà al di là di qualsiasi cosa possiate immaginare. La quinta dimensione è uno stato dell'essere in cui l'intelletto e l'emozione, la mente e il cuore, sono una cosa sola, una dimensione in cui possiamo veramente vivere in armonia, pace e amore con tutti gli altri esseri, compresi gli animali e la natura. Cari, un giorno così meraviglioso sta per arrivare, e vogliamo che siate preparati. Vi abbiamo protetto dalle interferenze esterne, e abbiamo aiutato la vostra civiltà a maturare per farvi prosperare. Abbiamo aspettato pazientemente che raggiungeste un livello di maturità spirituale tale, da poter elevare la vostra coscienza attraverso un processo di risveglio. Teniamo d'occhio tutto ciò che accade sulla Terra, e siamo sempre pronti ad assistervi. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. Grazie a tutti.